Sono Valentina del Bar G, la figlia della titolare e abbiamo iniziato questa piccola raccolta fondi per la tragedia che è successa per stare vicini in qualche modo e aiutare la famiglia e questa raccolta fondi è iniziata tramite Maddalena, un'amica della famiglia appunto che noi abbiamo accolto più che volentieri in quanto insomma erano ben voluti e la titolare comunque li conosce da tanti anni e niente, noi siamo qua, se vi va di passare per lasciare un piccolo pensiero siamo qua insomma